Seferi Prova a partire, salta un uomo Seferi Si porta la sfera sul mancino Seferi Fa partire una conclusione che è stata deviata in calcio d'angolo Può riprendere la manovra In avanti di Pisapia Verso Seferi che entra nella vigore Seferi accorcia le distanze Il gol del 2-2 Un sinistro rasodera micidiale Va Seferi, giocandola su Liberti Ancora Seferi entra in area di rigore Si tocca la palla con il destro mentre stava cacciando Ora Seferi, alla fine trova il gol del vantaggio Da fuori classe qual è? 2-2 di Seferi 2-2 per la Roma Secondo, ancora Liotti 4-2 per la Roma Il cross verso Seferi che di testa Fa la sua tripletta personale E porta avanti la Roma Da 2-0 a 3-2 Roma calcio a 8 Parroni verso Seferi Che parte in velocità Il tocco ancora Seferi in area di rigore Pitruzzella Salva la porta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti